Scontro tra prima e ultima della classe tra Gallarate e Salus Turate con i padroni di casa la capolista che vuole rifarsi dopo la sconfitta della scorsa settimana sul campo della Veno ci prova all'inizio con questo tentativo di Brunati ma non è un Gallarate particolarmente brillante nel primo tempo la premiata di Taccarella Biondini in due circostanze su due calci piazzati prova a confezionare il gol del vantaggio per gli ospiti ma niente da fare il gol non arriva ci prova il Gallarate con la qualità sulla corsia di sinistra di Martinoia cross al centro dell'area di rigore su cui rischia un clamoroso autogol a Rimoldi poi ci prova su calcio di piazzato il Gallarate con questo tentativo di torno si distende Scolfaro e Devia in calcio d'angolo poi si accende Ningue lui sicuramente un fattore in questa partita lo vedremo anche nella ripresa cross dentro perfetto Silla non ci arriva di un niente a deviare in rete il gol del vantaggio inizio ripresa sgroppata di Chiarello che si fa tutto il campo salta a mezza difesa della Salus e offre a Martinoia un pallone solo da spingere in rete apre troppo però all'interno piede il numero 3 e l'occasione sfuma poi ci prova anche Ningue che ci arriva prima del difensore della Turate con il mancino non inquadra la porta finché poi con tanto incedere il vantaggio arriva Chiarello smarca in area di rigore Silla controllo perfetto diagonale imprendibile per Scolfaro il vantaggio del Gallarate al dodicesimo del secondo tempo firmato Silla la risposta della Salus con il break di Perrotta che serve Bove conclusione col destro c'è anche una deviazione si distende Matteo Diana riesce a deviare in calcio d'angolo poi guardate questa azione Brunati mette dentro un pallone disastro della difesa del Turate Chiarello la rimette dentro a 0 si divora in modo incredibile non da lui il gol del raddoppio avrà modo però di rifarsi il giocatore con la maglia numero 20 oggi subentrato dalla panchina poi prova a farsi vedere ancora la Salus Turate con questo tentativo debole però di tricarico e alla fine guardate cosa succede al minuto 19 Ningue parte da sinistra si accentra salta 1 salta 2 avversari e poi al limite dell'aria fa partire questo destro chirurgico su cui Scolfaro non può nulla grandissimo gol di Ningue per il raddoppio del Gallarate raddoppio che diventa Tris perché a 0 sulla corsia di sinistra si rifà dell'ora precedente mettendo dentro questo gran pallone per la testa di Bregnai la rispinta di un difensore ma sul tap in ancora il numero 9 ex Varesina infila la porta della Salus Turate poi bella azione costruita da Boi Ningue e Maggioni il numero 15 entra in area di rigore si sposta palla sul mancino e calcia trova la deviazione di Scolfaro poi sugli sviluppi di un calcio d'angolo al 33esimo arriva questo intervento di mano che l'arbitro redarguisce con il calcio di rigore dal dischetto impeccabile a 0 spiazzato Scolfaro per il gol del 4 a 0 che è anche il risultato con cui si conclude la partita Calarate primo Salus sempre più ultima